L'intera saga del pugile più famoso del cinema. Nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Questa sera alle 21.10, il primo appuntamento. Rocky su Italia 1.